Buongiorno a tutti Siamo qui come potete vedere sul lungomare di Bari con un consigliere barese, giovane, Angelo Tommasicchio che si sta impegnando nel sociale e in tanti settori. Angelo parlami di te. Ho 36 anni quindi non proprio giovane, forse per la politica sia ancora giovane a 36 anni. Mi sono occupato di una serie di cose nella mia attività di consigliere comunale. Ho fatto una serie di battaglie per la salvaguardia occupazionale dei posti di lavoro dei lavoratori della Multiservizi, recentemente sui lavoratori della Fiera del Levante che rischiano di non ricevere più le loro retribuzioni già a partire dal mese di marzo e quindi arrischio la campionaria. Mi sto battendo per denunciare l'assenza di trasparenza e di regole precise per l'affidamento di 12 milioni di euro di risorse pubbliche gestite dal Teatro Petruzzelli e questa battaglia continua. In ultimo sto presentando una proposta di regolamento per la concessione dei beni confiscati alla mafia che vede una grossa partecipazione delle associazioni interessate del settore che vogliono acquisire questi spazi confiscati alla mafia a bassissimo costi perché in realtà si tratterebbe soltanto di ristrutturare questi immobili dove sono fatiscenti e gestire l'ordinaria amministrazione. Per le associazioni, per le onlus, per le fondazioni questa è una gran cosa. Quali sono le tue soddisfazioni? Le mie soddisfazioni più grandi è quella di vedere tanta gente che mi segue su queste battaglie, ci crede in un momento difficile, che crede ancora che la politica sia importante per risolvere i problemi e c'è ancora gente che ha fiducia in una nuova generazione, in una nuova classe politica nonostante il distacco e il disincanto che in questi ultimi anni sta caratterizzando la gran parte del popolo italiano. Tu sei da parecchio che sei in politica, vero? Sì, sì, diciamo che sono da parecchio, dal 99, da quando avevo 20 anni. La mia prima elezione è stata nella circoscrizione Libertà, San Gerardo e Fesca nel 1999. Poi la seconda nel 2004 e fui il consigliere più suffragato in Italia in quelle elezioni delle circoscrizioni, prendendo quasi 700 voti. L'ultima elezione in Consiglio Comunale nel 2009 dove sono diventato consigliere comunale. Ma i tuoi voti sono giovani? Non soltanto, non solo, perché la mia attività, come tu ben dicevi, è anche nel sociale, io gestisco un caffa anche, e quindi da me si rivolgono tantissimi pensionati, persone adulte. Quindi non tutto il mio voto è delle giovani generazioni, anche perché è noto, forse perché si è finita un'epoca delle ideologie, come i giovani purtroppo sono molto a volte disinteressate alla politica. Io direi che molti dei loro problemi potrebbero essere risolti se facessero pressione molto di più alla classe politica e se stessero un po' più vicino a noi. Chi si fa sentire sono spesso i genitori di questi ragazzi, gli anziani, che in parte hanno già dei diritti. Che cosa si deve fare per coinvolgere i giovani in un impegno sociale, in un impegno anche culturale? Secondo me i giovani vanno messi alla prova, vanno valorizzati, vanno riuniti, vanno coinvolti nelle iniziative. Bisogna far comprendere che magari nell'unirsi anche a queste iniziative possono esserci maggiori speranze del loro futuro. Tu riesci a coinvolgerli? Io sì, riesco a coinvolgerli, ripeto, nonostante la disaffezione, il disincanto, la disillusione contro la classe politica. Ci sono molti giovani che credono, che credono anche nell'operato che sto facendo, sanno che alla fine lo faccio per passione, lo faccio con correttezza, trasparenza e assoluta pulizia. Io non vivo di politica, ma vivo per la politica, per utilizzare una frase di Max. Bella questa frase, complimenti. Grazie. Vivo per la politica come passione, perché per fortuna ho costruito il mio lavoro e la mia professione, quindi non campo come molti ancora campano dalla politica. Senti, ma tu come passi? Tu che sei così impegnato a destra e a sinistra, senza fare... Certo. A sinistra. Senza fraintendere. A destra e a sinistra della Puglia, della città, come passi il tuo tempo libero? Ah, tempo libero ce ne ho poco. Vabbè, quando esci la sera con gli amici, cioè esci qualche volta? Guarda, se devo essere sincero, come lo so in maniera schietta, non esco molto. Arrivi stanco morto. Arrivo stanco e diciamo che solitamente durante la settimana, ma sto vedendo che col passare il tempo anche il venerdì, sabato e domenica, verso le dieci e mezza, undici, io sto già a dormire spesso. Complimenti. Quindi non fai una vita? Sì, la faccio, però diciamo... Più di giorno. Sicuramente più di giorno. E a me dispiace perché infatti molti amici spesso mi reclamano, mi dicono ma tu non ci chiami mai, non esci mai, ma non è perché non sono legato diciamo a loro, ma perché veramente, svegliandosi presto la mattina, si arriva veramente stanchi morti a parlare con tanti cittadini per risolvere una serie di problematiche, in più io lavoro, quindi devo dar conto anche alla mia azienda. Ti sei mai domandato come mai i politici, quelli ad alti livelli, diciamo che sono a Roma, che stanno tranquilli. No, no, ti sei mai domandato come facciano a divertirsi? Sì, io me lo sono chiesto, certo, perché io sono convinto che il lavoro di un consigliere comunale, un lavoro di un consigliere regionale sia molto, ma molto, ma molto più impegnativo di un parlamentare, nonostante tutto loro guadagnano 20 volte in più di noi e io credo che loro dormono sui banchi del Parlamento perché fanno molta vita mondana nella dolce vita romana. Vedo molti parlamentari, a differenza di quando c'era il voto di preferenza, che non vengono più nei loro territori, non danno più risposte giustamente ai cittadini perché tanto la loro elezione è determinata dalla sussunzione al capo, dall'abbassare la testa al segretario di partito, quindi non vedo perché dovrebbero perdere tempo con i cittadini. A differenza nostra che invece abbiamo un sistema anche elettorale di preferenza unica, ma che siamo in frontiera, in trincea e siamo a volte i primi responsabili di una crisi comunque generale quando ci sono parlamentari che io sono convinto dormono sui banchi del Parlamento perché di notte fanno altro. Ebbene, purtroppo è vero, non tutti tutti però è vero. Buona parte, perché non ha interesse a parlare con i cittadini. Senti, come vedi Bari come città europea? Io Bari la vedo come una città europea perché deve essere una città europea, è una delle città, la seconda più importante del mezzogiorno. I cittadini devono comprendere di più quanto sia importante il tema dell'Europa. Su questo aspetto io ho coinvolto una serie di giovani e sto continuando a coinvolgere una serie di giovani in iniziative che riguardano il tema del lavoro, formazione e fondi europei. Fondi europei che spesso non vengono spesi e quindi non hanno una ricaduta positiva sul territorio e sto cercando di coinvolgere soprattutto anche giovani, ma anche chiaramente esperti di progettazione di fondi comunitari per mettere su un osservatorio a Bari che recepisca questi fondi, ma soprattutto di idee perché quello che io ho verificato è che non c'è capacità di progettuale da parte anche di molti giovani che non comprendono invece l'importanza dei miliardi di euro messi a disposizione dalla comunità europea per le nostre realtà locale. Se iniziassimo anziché parlare soltanto contro l'Europa, di studiare ed essere dei buoni come posso dire progettisti, sicuramente Bari potrebbe diventare ancora di più europea. Benissimo. Quali sono i tuoi sogni nel cassetto? I sogni personali o collettivi? Tutte e due. I sogni collettivi è quello di vivere in una città ma in un paese più tranquillo, più sereno, più felice, meno teso, meno depresso, che la gente torni, gli italiani torni ad essere quello che siamo, c'è il popolo più sorridente, più creativo, quello lo è ancora, più felice, che vive nella tranquillità e nel benessere. Perché credo che la felicità, almeno io ho sempre pensato questo, ecco il mio impegno in politica, che la felicità degli altri sia poi la felicità anche di noi stessi. Questo ti fa onore. Cioè vivere in un paese, in una città che sta bene è un contagio. E' questo diciamo l'elemento importante. In questi ultimi anni purtroppo non si vive bene e questo disagio viene scaricato su tutti noi. Io la vedo così. Quindi credo che la felicità di una comunità sia direttamente proporzionata alla felicità personale. Noi facciamo parte ancora dell'obiettivo 1. Cioè Bari è ancora una città dell'obiettivo 1. Che cosa ne pensi? Qual è la soluzione per dare uno scatto? Fino al 2020 tutti quanti, tutte le categorie devono fare pressione alla classe politica, in particolar modo anche alla regione Puglia, perché questo è l'ultimo treno europeo. Dopodiché la Puglia esce dalle regioni obiettivo 1, le risorse saranno mandate all'est, saranno mandate negli altri paesi dell'est. Noi non avremo più nessun aiuto economico. E quindi fino al 2020, e questo è un appello che io faccio al mio candidato sindaco De Caro, bisogna, se si riesce a vincere come io credo, perché noi abbiamo una classe politica preparata, giovane, europea anche, dobbiamo allestire subito un osservatorio per declinare i fondi comunitari in questa città e spenderli tutti, tutti, senza lasciare nulla al caso. Bene, allora io ti faccio tanti auguri e ti ringrazio e ti aspetto per un altro appuntamento. Sicuramente, grazie.